come spostare applicazioni sulla memoria interna di android quindi il mio telefono questo è il mio telefono cellulare il mio smartphone con android dentro android nella versione 5.1 però ormai tutte le versioni sono più nuove ma il procedimento lo stesso per andare a spostare un'applicazione basta che vado a cliccare sulla decidura impostazioni eccola qua come sto facendo vedere ora tra le tante decidure dovrò andare individuare l'applicazione c'è la decidura app eccola qua tutte le versioni android hanno la decidura app dovrei andare a cliccarci sopra come sto facendo io ora ora a questo punto scelgo di trovare tra le applicazioni che mi si vengono elencate quella che voglio andare a spostare sulla memoria interna del mio telefono cellulare nella fattispecie concreta l'applicazione roma today ci clicco sopra a questo punto vado a spostare l'applicazione in questione nella memoria interna quindi andrò a cliccare su move to internal storage la decidura per far sì che ciò che questa paglia deve essere nera ovviamente no ci clicco sopra a questo punto aspetto attendo in linea e vediamo quanto tempo ci mette in genere ci mette qualche istante di tempo ecco fatto ho già fatto già finito posso andare a vedere quanto spazio a disposizione utilizzando il file manager va bene che mi dà a disposizione tutti gli strumenti per capire quanto spazio ho occupato sia nell'archivio interno la memoria interna che la memoria esterna ossia la micro sd vi ringrazio per l'ascolto gentilissimi udienti di youtube il procedente è molto semplice ripeto impostazioni ripeto poi la scritta app dove sta eccola qua tra le diverse applicazioni che mi vengono elencate andrò a cercare quella che voglio spostare sulla memoria esterna interna cioè scusatemi e andrò a cliccare su move to internal storage e non sposta su scheda sd ok perché a me interessa mettere sulla memoria interna grazie a tutti da leandro manatore italiano iscrivetevi al canale